Mi trovo al quarto piano del palazzo del governo di Taranto in via anfiteatro in quella che è la sede della provincia, dell'ente provincia o meglio di quello che resta dell'ente provincia. Basta guardare un attimino i corridoi e vi fate un'idea di come questo ente, ma l'ente provincia in generale in Italia, sia diventato uno scatolone vuoto perché le province, come sapete, sono state svuotate di poteri, hanno competenze molto ridotte e quindi quell'organismo politico che una volta esisteva di fatto non esiste più. Ricordo negli anni che furono il tran tran, il via vai, il fermento dell'attività politica perché in queste stanze c'erano appunto i gruppi consigliari e quindi tutti gli incontri, tutta l'attività propedeutica poi alle varie attività del Consiglio provinciale e della Giunta. Non riusciamo a comprendere quale sia a questo punto la ragione per la quale le province ancora esistono in un ruolo davvero depotenziato, ridotto ai minimi termini. Per non parlare poi del sistema elettorale con cui i vari consiglieri e il Presidente vengono eletti. Una volta si votavano direttamente il Presidente e i consiglieri, ora c'è tutto un sistema per cui sono gli stessi comuni della provincia, cioè i vari consiglieri comunali dei comuni appunto della provincia che eleggono i consiglieri. Quindi un sistema di rappresentanza molto ma molto indiretta che allontana ancor più il cittadino appunto dalla cosa pubblica, dalle istituzioni. Allora ricordate il referendum di Renzi, il referendum proposto da Renzi che mirava appunto all'abolizione delle province, poi il referendum non è passato e quindi queste province sono rimaste così. Stanno, come si suol dire, tanto per stare. È uno spreco di danaro pubblico tenerle così, per cui o a mio avviso le ripristiniamo e quindi diamo competenze precise, arricchiamo le loro competenze, creiamo un sistema elettorale diretto in modo che sia il cittadino a eleggere direttamente il Presidente, a eleggere direttamente i consiglieri e non con questi giri e queste stranezze di elezione. Diamo pieni poteri e facciamo sì che una struttura del genere sia pienamente utilizzata. Altrimenti se dobbiamo tenere queste stanze, questi stanzoni vuoti, a questo punto chiudiamo proprio le province e eliminiamole e buonanotte. Questo è uno spreco di danaro pubblico perché c'è luce accesa, c'è personale, c'è quant'altro, perché cosa per il nulla? Non è certamente colpa della provincia di Taranto, della provincia di Torino, della provincia di Cannicattì, ci mancherebbe. E purtroppo il sistema italiano che tiene le province in stand by. Ripeto, questa mattina è giunta, l'occasione di fare questa trasmissione perché ero proprio in provincia per una conferenza stampa di alcune associazioni di volontariato e camminando per i corridoi ho detto, ma caspita, si può sprecare il danaro pubblico in questo modo? A questo punto non si potrebbero adibire, non si potrebbero così destinare queste stanze, queste stanzioni per altri usi? Ecco, anche questa è un'idea. Nelle mure, fin quando non si decide che futuro avranno le province, a questo punto io dico che la provincia di Taranto destinasse una parte minima di questa struttura, di questo immobile, di queste stanze, all'attività residua dell'ente provincia e in resto le altre stanze così utilizziamole per altri fini, per altri usi, che so io, darle alle associazioni di volontariato, magari ho altri ruoli appunto che la città potrebbe appunto decidere. Quando dico la città intendo l'amministrazione comunale, magari di concerto appunto con gli altri attori del territorio. Beh, questa è stata una riflessione, come dire, dovuta perché davanti a tanto spreco, davanti a tanti all'ennesimo carrozzone, beh, un po' di rabbia ti viene, se si considera che poi c'è la gente che muore di fame. Lo sportello del cittadino, un programma di segnalazioni, denunce e proposte, a cura di Luigi Abate, in onda ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 15 su Tele Sud, canale 115 del digitale terrestre visibile in Puglia.